Ieri mattina presso la sede della Giunta regionale della Campania è stato sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alle frodi. La firma è avvenuta alla presenza dell'assessore alla legalità Mario Morcone, dell'assessore all'agricoltura Nicola Caputo ed Emilio Gatto, direttore generale del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole. I fenomeni della contraffazione e della emissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza alimentare sono in continua espansione creando gravi danni alle imprese e rappresentando un pericolo per la salute dei consumatori. Con la firma del protocollo d'intesa, con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari abbiamo finalmente uno strumento concreto per potenziare i presidi di legalità in un settore fondamentale dell'economia campana. L'obiettivo della Regione Campania è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per tutelare le imprese che operano nella legalità e che subiscono i danni provocati da coloro che operano in regime di concorrenza sleale, ha dichiarato Nicola Caputo, assessore regionale all'agricoltura. La Regione Campania è impegnata nella promozione della cultura della legalità e negli interventi di contrasto alla criminalità organizzata che opera anche nel settore agroalimentare. Con questo provvedimento realizzeremo attività in ambito formativo anche per le polizie locali della Campania finalizzate ai controlli scientifici e basati sulle tecnologie più avanzate. Assicurare da un lato la tutela e la sicurezza alimentare dei consumatori e dall'altro salvaguardare i produttori dai fenomeni disleale concorrenza e nell'interesse generale della comunità. L'accordo consente di strutturare la collaborazione istituzionale e di promuovere sinergie tra i soggetti protagonisti, rafforzando le misure di contrasto, ha dichiarato Mario Morcone, assessore regionale alla legalità.